30 ore testa capito? si 20 semaforo 15 10 5 4 3 2 1 andiamo super D e A per D3 più più no 20 dossati A4 più lascia sconnessa chiude 4 no 20 con compressione D4 D4 no tieni in stop a 3 in D3 meno A3 in D3 meno per A5 chiude 3 più più in D5 mossa alle piante chiude 4 più salta e tieni in stop A2 meno gira no apre 3 meno bravo Andre apre 3 meno in super D per A3 più più mossa tieni in D3 più sudosso gira forse sporca 30 Aibiri Aibiri occhio D4 meno in A4 più corta 20 stop D4 corta stop D4 corta in A4 più secca subito D e A in stop D3 meno gira corta sudosso forse sporca 10 stop frena prima D3 no in A3 più più media all'albero diventa 3 più più corta 10 destri sacrifica A4 tieni intornante destro 2 10 stop A3 meno meno chiude no in D3 apre per per A4 meno lascia a rail chiude 3 meno gira 10 a rail vai gira 10 D5 media 10 stop A3 meno gira e apre stop A3 meno gira e apre in D5 più alle piante chiude 4 secca vai 20 e alla siepe stop D3 più no e apre D3 più no e apre per A3 in D4 media apre 30 stop A3 più più gira lunga 10 stop gira lunga 10 3 super D e A super D e A in super D due tempi 20 occhio sacrifica poco D5 meno corta in A4 più tieni sacrifica fine 5 meno corta A4 più tieni sacrifica fine stop D2 meno gira per A3 più più corta in sacrifica di sud osso in A2 meno meno gira apre 3 tieni in D3 meno 10 stop A3 media tieni in D3 meno gira in A4 alle gomme chiude 3 meno tieni in stop aspetta D2 più più gira no D2 più più gira no in A3 meno 30 stop stop chicane entra a destra 4 scambi meglio di 3 andiamo eh in A5 più vai 10 stop D3 più 50 stop D3 più 50 stop A3 più più no 20 sfiora A subito D4 secca rotta 10 sinistri D5 subito super A indosso pieno stai centro salta diamo diamo giù tutto diamo buono Andre